Ho fatto il testo sierologico, le chiedevo se può esistere, se esiste, se ha un senso la patente di immunità e lei mi ha detto non esiste. Non esiste, non esiste perché le situazioni possono essere molto diverse, dipende da tanti fattori che sono difficili da controllare e quindi non si può parlare di una patente di immunità. Quindi se io faccio il testo sierologico non riesco a capire cosa? Non ho capito. Se io faccio il test sierologico cosa conosco e cosa invece non posso conoscere? Posso sapere che sono stato a contatto con il virus, però ci sono anche, a seconda dei metodi che si utilizzano, ci sono anche dei falsi positivi e dei falsi negativi. Quindi diciamo c'è anche una percentuale d'errore. Qui si dovrebbe avere, si devono avere dei test che abbiano una specificità molto importante, cioè deve essere dell'ordine di almeno 97-98%. Ora c'è in giro invece una gran quantità di test che non sono stati validati e quindi c'è sempre un punto di domanda sul risultato che si ottiene. Oggi sono solo due che io sappia i test che sono stati validati, uno dall'Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Lombardia. Buon dia!